Oggi è difficile dare dei dati precisi, dare delle assicurazioni organizzative adatte. Tuttavia, nel merito della distribuzione delle dosi vaccinali, abbiamo il dovere di dire la nostra, perché è assolutamente importante comprendere come il sacrificio fatto da tanti medici di medicina generale, da tanti pediatri di libera scelta, viene oggi buttato via, viene oggi sacrificato di fronte ad una situazione che non va. Allora, ci riferiamo prima di tutto alle carenze complessive di dosaggi di vaccini che devono essere erogati, che devono essere somministrati ai vari cittadini. Ci riferiamo inoltre, e qui entriamo più nelle responsabilità più specifiche dell'azienda sanitaria del nostro territorio, ci riferiamo cioè alla non comunicazione di questo fatto, cioè della carenza delle dosi da erogare, una carenza anche di informazione, dicevo, che ha bloccato l'azienda nel riferire ai cittadini quanto stavamo vivendo. E tutto questo si è riversato poi sul medico, che si trova unico front office di fronte al cittadino, a dover fronteggiare, a dover ritrovare in qualche maniera il bando della matassa. Ma tutto questo non è giusto. Non è giusto perché non è la responsabilità del medico, se manca un vaccino, se manca la possibilità di erogarlo, ma è di un sistema che traballa, che purtroppo con l'assalto pandemico che stiamo vivendo, ogni giorno sempre più drammatico, non può che essere così. L'altra situazione che ci ha completamente lasciati senza parole è quella di dover avere una distribuzione di dosaggi vaccinali assolutamente diversificata nei vari medici, ma non come sarebbe logico in base agli assistiti dei vari medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ma sulla base di distribuzioni del tutto casuali. Tutto questo ha determinato che vi sono dei medici con 200 assistiti, che si sono trovati con 120-150 dosaggi da distribuire, quindi molto facilmente sono riusciti ad avere la possibilità di far fronte alle richieste, e invece massimalisti con 1500 assistiti che non hanno potuto avere più di qualche decina di dosaggi vaccinali. Tutto questo deve smettere immediatamente.